Quinta ed ultima tappa del circuito Ristogolf 2021 by Allianz, prima dell'evento finale che si terrà a Cervia. Numerosissimi amici ristogolfisti sono scesi in campo qui al Molinetto Country Club. Ristogolf la prima volta al Molinetto Country Club, una struttura meravigliosa, le porte di Milano. Grazie per la visione! Un percorso non lungo ma tecnico con molti ostacoli da fare. Ma i nostri ristogolfisti con la colazione di benvenuto, le postazioni sul campo e poi lo show cooking hanno superato qualsiasi difficoltà. E poi godere della bellissima serata a bordo piscina in un clima di grande festa, di grande convivialità che poi porteremo tutti insieme a Cervia. Amici ristogolfisti, tutti a Cervia per il grande evento finale, vi aspettiamo!